La camorra insanguina la festa per lo scudetto. Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso ieri a Napoli mentre festeggiava in strada il tricolore appena conquistato dalla squadra di Spalletti. Ma dalle prime ricostruzioni appare evidente che questa morte non è legata all'eccitazione e agli eccessi del momento. Sembra invece piuttosto un regolamento di conti nelle logiche criminali che ancora attanagliano la città. Vincenzo Costanzo, questo il nome del ragazzo residente nel quartiere di Ponticelli ritenuto vicino al clan camorristico D'Amico, attivo nella zona orientale della città, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco quando era a piazza Volturno, lo slargo di Corso Garibaldi. Chi ha sparato potrebbe avere approfittato del momento di festa di grande confusione che ha attraversato tutta la città dallo stadio Maradona fino a Garibaldi per colpire il ragazzo che aveva già dei precedenti. Insomma, un agguato. Con il 26enne sono rimasti feriti anche una donna di portici e due giovani di 20 e 24 anni. Dopo la sparatoria, il ricovero. Vincenzo, ferito in più parti del corpo, è stato trasportato al Cardarelli. La sua situazione è apparsa da subito critica, tant'è che è morto poco dopo. Ma c'è di più. Alcune persone vicine al ragazzo, probabilmente amici e parenti, hanno vandalizzato il pronto soccorso dell'ospedale. Il gruppo ha presa la notizia del decesso e andato in escandescenza, inveendo contro gli agenti e colpendo con calci e pugni le porti d'ingresso. I poliziotti, con il supporto del reparto mobile di Napoli, sono riusciti ad allontanare i violenti e hanno anche arrestato una donna di 49 anni, anche lei con precedenti, per danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Resta poi da chiarire anche la posizione degli altri tre feriti, medicati in ospedale e in seguito dimessi.